Esposto alla Corte dei Conti in caso di danno era reale. Così il PD commissariato rilancia l'attacco sui cavalli Tosaerba al Parco d'Aolio, esperimento chiuso dopo pressioni e polemiche. Chi ha deciso che lo sfalcio Erba al Parco dovesse essere fatta con la dislocazione di 6 cavalli al Pascolo? Con quale atto formale, si chiedono dal PD? E' a disastro realizzato? Quanto è costata per l'intero l'operazione, con particolare riferimento alla rimozione dello sterco considerato rifiuto speciale e conseguente bonifica dell'aria? Sono state prese in considerazione soluzioni, per dire così tradizionali, ad esempio la possibilità di utilizzo dei percettori di reddito di cittadinanza che nel relativo progetto hanno 8 ore di lavoro di pubblica utilità, anche alla luce del fatto che il Comune ha attivato le tirocini per le persone che usufruiscono dei servizi sociali e ancora si domandano dal circolo e troppo pretendere che un'amministrazione conosca il regolamento igiene pubblica che stabilisce che i terreni scoperti dentro la città debbano essere tenuti assolutamente sgomberi da qualunque immondizia, come pure da qualunque sostanza facilmente putrescibile, fermentabile o comunque atta a produrre cattive salazioni, regolamento facilmente consultabile sul silo del Comune per rendersi conto immediatamente dell'impraticabilità, della brillante idea innovativa al punto da capirla solo chi la avuta? Ed il sindaco e il segretario comunale, i fautori delle giunte di salute pubblica, nessuna obiezione? Ovviamente ci aspettiamo risposte plausibili a quelle che sembrano legittime curiosità di chi si fa interprete di un'intera comunità che in questi giorni ha vissuto con preoccupata partecipazione all'intera vicenda, in particolare in presenza di eventuali danni erariali, non escludiamo il coinvolgimento della Corte dei Conti, a tutela degli interessi della stessa collettività, concludono dal PD. Grazie.